La dottoressa Yang stava conducendo un progetto importante. I finanziamenti esterni erano notevoli. Questi sono gli ultimi appunti che ha archiviato. Io non ci capisco niente. Cosa significano? Evidentemente stava facendo esperimenti sui pazienti. La nuova sostanza chimica non assomiglia molto al Venom originale. Alcune modifiche amplificherebbero la forza della sostanza. I riferimenti alla formula del Titan sono diversi. Ne basta una piccola quantità per scatenare una trasformazione simile a quella del Venom. Questo eliminerebbe i serbatoi di stoccaggio che richiede Bane. Aspetta, gli appunti non sono completi. Manca la formula. Deve essere questo il segreto che la dottoressa Yang sta nascondendo. Se Joker riesce a metterci le mani sopra, riuscirà a creare un esercito di Bane. Mio Dio, Joker è abbastanza pazzo per farlo. Che domande faccio? Devi fermarlo. Vado a cercare la dottoressa. Ero diretta verso la residenza con Cash. Cercherò di risalire attraverso il sistema fognario. Per entrare userò il bantartiglio. C'è un'ecciso Wonder. Per entrare users. Aplica la dottoressa. Ci pigri e il bote. Troppo di rispondere. C'è un'ecciso? C'è un'ecciso? C'è un'ecciso? Algo di rispondere sia il bote. C'è un'ecciso? C'è un'ecciso? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oh, mi dispiace. Cercherò di essere più preciso la prossima volta che decido di invadere un isolato. Eh, io non volevo. Posso accettare le critiche, voglio dire, non sono perfetto. Beh, adesso che ci penso, sono abbastanza vicino alla perfezione. Dov'ero rimasto... Dov'ero rimasto... Oh, sì! Critiche da un vero... E come te, uno che striscia in giro libera solo perché io gli ho aperto la cella? È una cosa che non posso tollerare! Non funziona quel magico? Ti senti? Non vuoi dire le curie di le orecchie? Con un documento da nuovo! Oh, sì! Tornai al lavoro, ma non riuscivo a scrollarmi di dosso quell'immagine. Avrei dovuto provare repulsione, ma era più forte la voglia di capire qual era il motivo che spingeva una persona ad arrivare a quel punto. Perchè dobbiamo esplendere? Ti faccio a pezzetti! Non parti così, radio! Eita! E' un po' Sì, lo colpiamo. E' ancora qui? Lui? Mi stai prendendo in giro, vero? Quello non è umano. Sì, mi sento stronza. Allora, dove faccio andare? Comincio ad avere fame. Ho fatto ricerche sulla dottoressa Young. Secondo i suoi movimenti bancari ha ricevuto diversi pagamenti a partire da aprile fino a due mesi fa. Poi più niente. I pagamenti arrivavano da una società di proprietà di un certo Jack White. E' uno dei vecchi pseudonimi di Joker. E così Joker paga la dottoressa Young per crearsi un esercito e poi... Tontratto smette. Non ha senso. E questo rapparo come un foglio di carta. E questo rapparo come un foglio di carta. E questo è strano. I pagamenti sul conto della dottoressa non sono stati sospesi ma respinti. La dottoressa ha messo un blocco sul suo conto. A quanto pare ha cambiato idea. Ha cercato di bloccare i pagamenti. E Joker non gradisce che i suoi soci facciano marcia indietro. Così ha deciso di tornare ad Arkham a cercare la formula per mettere insieme il suo esercito da solo. Esatto. Sono entrata nella sua mail. Ci sono un paio di messaggi interessanti. La prima è una lettera di dimissioni datata la settimana scorsa. Evidentemente pensava di andarsene. E la seconda? È un messaggio di Joker, cioè Jack White. La storia è lunga. Lei lo implora di sospendere l'esperimento. Dice che è troppo pericoloso. Lui non ascolta. Vediamo. Minaccia la sua famiglia. Fa un paio di battutine scadenti. Ah, c'è la foto di un bambino morto e una minaccia. Continua. Dice, sto venendo da te. Voglio ciò per cui ho pagato. E poi un'altra battutina con riferimento alle sedie rotelle in Serena. E il disegno di una specie di asina. Non mi meraviglia che si sia spaventata. Sto per arrivare in superficie. La troverò. Ti stai guadagnando il mio rispetto, Cavaliero oscuro. Se non ti senti così, ti permetto di aiutarmi a cercare i canzoni. a cercare i canzoni. a cercare i canzoni. A cercare i canzoni. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.